Rieccoci qui cari amici parlando ancora una volta di Grande Fratello VIP edizione numero 7 che sta praticamente per finire, ma concentriamoci sul momento difficile che c'è stato per Nikita Pellison, dove in diverse occasioni l'influencer triestina è stata così vittima di battute e delle prese in giro da parte di altri vipponi e i suoi modi originali e il suo carattere si contra sicuramente il suo modo di fare, ebbene spesso l'hanno esposta ad atteggiamenti che qualcuno non ha tanto tardato a definire atti di bullismo e noi su questo argomento ci siamo stati soprattutto all'inizio del programma, ma Nikita intanto prosegue pur tra le varie difficoltà che ci sono, il suo percorso, ormai questo percorso finale all'interno della casa che perché ancora non si è guadagnata l'accesso alla finale di lunedì 3 aprile. Ultimamente, ad esempio, Nikita Pellison è stata presa di mira da Oriana Marzoli. La modella venezuelana ha prima sottolineato di non credere al riavvicinamento tra Nikita e Luca, mi sembra strano che adesso ci sia questa confidenza tra voi. Poi ha preso in giro l'influencer imitandone anche l'accento, sempre con questo sguardo. Ti giuro, uno sguardo che mi mette. Hai capito? Quello sguardo da, stai dicendo una cavolata. Nikita, che fa quello sguardo e poi dice, cioè, così. Ma non ho detto una cavolata. Lo ho solo detto che stiamo andando a giocare a obbligo o verità. Recentemente il livello dello scontro tra Nikita Pellison e Oriana Marzoli ha raggiunto livelli mai visti prima. Le due non perdono occasione per punzecchiarsi e lanciarsi frecciate. Ma l'ultimo gesto della modella venezuelana non è piaciuto neanche a tanti telespettatori. Nikita Pellison si è sfogata con Milena Miconi. Lei e Oriana sono capitate insieme nei turni di conduzione della radio del grande fratello. Quando Oriana lo ha saputo è corsa in confessionale per farsi cambiare turno. E l'influencer non l'ha presa per niente bene. Sono stanca di questi comportamenti, io ho cercato più volte di avvicinarmi a lei ma ho sempre trovato un muro. Oriana continua a dirmi che sono falsa e superficiale e a me non sta più bene. Successivamente, però, i turni non sono stati cambiati e Nikita e Oriana hanno comunque condotto la puntata alla radio. Come se non fosse successo nulla la stessa Pellison, al termine dell'attività, ha voluto ringraziare Oriana. Ori, grazie, ci siamo divertite ed è stato bello. Oriana le ha anche dato la mano. Chissà, prove di disgelo in vista. Difficile dirlo. Noi non ci scommetteremmo. Ma chi può dirlo?